Ben tornato a un nuovo speciale, Crona Caretina, torniamo a parlare di sicurezza dopo i recenti fatti di Saione, tutto quello che è avvenuto dopo la Maxi Rissa, reazioni, provvedimenti. Tra le altre prese di posizione di questi giorni c'è stata anche quella del SAP, il sindacato autonomo di Polizia. Siamo in compagnia di Antonio Gibelli, buonasera che ritroviamo. Siamo davanti alla Prefettura che è un po' il luogo, l'emblema anche della gestione dell'ordine pubblico. Voi in una nota avete un po' ricordato una delle vostre battaglie, cioè quella di eliminare gli sprechi per dare rinforzi soprattutto alle forze dell'ordine impegnate nel territorio, anche perché voi avete detto che avevamo avvisato di una situazione che poteva diventare sempre più critica. Certamente, diciamo che l'episodio del 13 agosto era stato ampiamente annunciato da una serie di fatti che accadevano e cadono tuttora nel triangolo magico Campo di Marte, Pionta e Saione. Tutti i giorni zuffe, risse, segnalazioni di persone che spacciano. Quindi chiaramente forse andava affrontato prima sicuramente. Mi rendo conto che ci sono dei problemi di carattere nazionale che magari a livello locale non possono essere affrontati o perlomeno possono essere affrontati solo parzialmente. Chiaramente il fenomeno migratorio non può essere ridotto dalla Prefettura. Però noi insistiamo ormai da tre anni a questa parte sul fatto che ci siano sicuramente dei servizi inutili o perlomeno rinunciabili a fronte di una situazione emergenziale come quella attuale. Mi riferisco in modo particolare alla vigilanza nelle 24 ore della Prefettura che ormai è rimasto forse uno dei pochi casi in Toscana visto che ormai i palazzi del governo tutt'al più hanno un servizio armato negli orari di apertura. Invece qui garantito nell'arco delle 24 ore il centralino con personale di polizia quando ormai i centralini, non ci sia bisogno che lo dica io, sono gestiti o da risponditori automatici, computerizzati o da categorie protette. Poi ho dimenticato il caso di Badia-Prataglia perché nonostante le nostre numerose segnalazioni ancora adesso ci sono cinque agenti che vigilano le foreste del Casentino. Quindi insomma io penso che sprecare 15 poliziotti ma forse anche qualcuno in più per fare questi servizi sia veramente una vergogna. Noi l'abbiamo segnalato più volte ai vari prefetti che si sono succeduti negli ultimi anni e purtroppo non abbiamo risolto niente. Siamo partiti con il dottor Saverio Ordine il quale ci ricordava che egli era autorità provinciale di pubblica sicurezza e quindi necessitava evidentemente di una tutela particolare rispetto alle altre persone. La dottoressa Guidi è stata interlocutora ai nostri confronti, ha detto che se ne poteva parlare poi però non ha avuto il tempo, forse è stata questa la causa perché è stata mandata via. L'attuale prefetto, abbiamo indirizzato anche alla dottoressa Vaccaro tutte queste nostre istanze, non abbiamo ricevuto risposte, abbiamo chiesto un colloquio più volte ma questo colloquio non ci è stato concordato. Quindi forse, non so, c'è qualche problema nei confronti della nostra associazione di categoria. Mi chiedo, forse sarà questo il problema. In questo momento ci sono dei rinforzi, sono stati chiamati agenti speciali, tra virgolette, che è un po' esagerato. Agenti, diciamo. Che arrivano alcuni da Firenze e altri da dove? Diciamo che arrivano delle pattuglie del reparto prevenzione crimine, che è una sorta di reparto volanti regionale che si sposta, ma normalmente si sposta. Questi servizi c'erano già una volta alla settimana qui ad Arezzo, così come nelle altre città della regione. Adesso per un periodo di tempo ci sono tutti i giorni, ma solo in un quadrante, in un turno. Negli altri turni purtroppo rimane quasi sempre una pattuglia di polizia ed una dei carabinieri, che è assolutamente insufficiente per garantire un minimo di controllo del territorio e un minimo di servizio alla cittadinanza, ma non solo, visto che sta parlando un'associazione di categoria per garantire anche una sicurezza operativa per noi poliziotti, perché intervenire in due è improponibile, soprattutto con i problemi di cui parlavamo prima. Al Pionta, a Campo di Marti ci sono centinaia di persone e sta diventando sempre più pericoloso anche per noi. Queste persone gestiscono, secondo voi, l'interpretazione che vi siete dati del perché poi si è arrivati a quell'episodio eclatante? Qualcuno ha ipotizzato anche rivalità di tipo etnico oppure traffici che gestiscono tra bande diverse? Probabilmente quest'ultima ipotesi, però ora sono al vaglio anche degli investigatori, queste situazioni ovviamente non è il caso che mi esprima al riguardo. Comunque il problema è oggettivo, al di là delle cause, delle ragioni e dei fini che possono avere queste persone, il problema è che adesso sono tanti, sono tanti e sono loro che creano problemi, perché noi interveniamo quotidianamente per risse fra centrafricani o comunque persone che bazzicano Campo di Marti, Pionta e poi Saione e pian piano si stanno diffondendo anche in altre parti della città purtroppo. Si tratta di persone che sono con lo status di richiedenti asilo in genere? La maggior parte sì, poi ci sono alcuni che questo status ormai hanno avuto un diniego al riguardo, il problema è che le espulsioni non si possono materialmente eseguire, ma questo non è un problema della prefettura di Arezza, è un problema di carattere nazionale, i centri di permanenza sono stracolmi e tutte le volte che si cerca di eseguire materialmente un'espulsione non si può. Quindi queste persone vengono invitate a presentarsi, però chiaramente non si presentano e il problema viene rimandato e nel frattempo poi arrivano altre persone, quindi chiaramente di questo passo dalle 2.000 unità richiedenti asilo qui a livello provinciale, non so dove potremo arrivare. Ovviamente la situazione senza interventi che rendano in modo consolidato una diversa organizzazione, quindi al di là di questi rinforzi che temporaneamente ci sono, ovviamente è una situazione che richiede un altro tipo di approccio, tra cui quello degli sprechi. Certamente, certamente, chiaramente per gestire almeno l'ordinario sarebbe utile sfrondare, togliere quello che si può togliere e purtroppo questo non viene preso in considerazione e penso sarebbe il compito principale di un'autorità o di una persona che deve gestire un problema come quello attuale. E con la Polizia Municipale che la vediamo anche attiva è un aiuto? Sicuramente, sicuramente, anzi secondo me forse fanno anche più di quello che dovrebbero e anche per organizzare questi servizi cosiddetti straordinari c'è il concorso molto efficace, molto proficuo della Polizia Municipale. Il problema è che chiaramente se si spostano risorse in una direzione, poi chiaramente è gioco forza se ne tolgono da un'altra parte, così come per quanto riguarda la questura di Arezzo. Se noi organizziamo tanti servizi di ordine pubblico, chiaramente poi ne va a discapito di altri settori, settore amministrativo, vedasi rilasciare i permessi di soggiorno, dei passaporti, settore investigativo, squadra mobile, digos, siamo pochi. Purtroppo il turnover non è cambiato negli ultimi dieci anni, quindi a fronte di dieci persone che vanno in pensione ne rientrano cinque. Quindi se si continua così, io penso che nel giro di qualche anno saremmo costretti a chiudere bottega, perché se non fa qualcosa qualcuno, questo a livello nazionale ovviamente. Un'ordinanza come quella anti-alcol può essere un aiuto? A mio avviso no, per quanto riguarda la mia esperienza di poliziotto, ultra trentennale esperienza, non la vedo un'iniziativa. Sì, può fare qualcosa forse, ma siccome stiamo parlando di sanzioni amministrative, le sanzioni amministrative non hanno alcun effetto sulle persone che non hanno una residenza fissa, perché anche quando io contesto la violazione di questa ordinanza, così come di altre ordinanze di questo genere, e poi se questo non paga alla fine perché non ha una residenza, non ha i soldi per pagare, cosa ho fatto? Ho fatto del lavoro per niente, questa è una mia opinione personale ovviamente. Infine quindi c'è anche un po' di timore immagino rispetto a un tempo anche a intervenire di fronte a tutte queste persone? Beh sicuramente, anche perché si coalizzano. Io personalmente sono intervenuto un paio di volte, anche il 13 agosto ero presente, e quindi posso dire con certezza che un po' perché sono in tanti, un po' perché le norme che sono state attuate, scusate non attuate, sono state approvate negli ultimi mesi, vedasi il reato di tortura e quant'altro, non aiutano certo, perché ormai diciamo che le forze dell'ordine sono destinate a diventare sempre più inermi, purtroppo, perché c'è una grande attenzione nei confronti del lavoro che facciamo noi, però solo in un determinato versante del nostro lavoro, nel senso che si guarda sempre all'errore, magari piccolo errore, alla sciocchezza, senza guardare poi invece la cosa principale, che è il risultato. e quindi chiaramente poi c'è il rischio che la gente, appunto con la paura di sbagliare, e poi magari lavori o comunque si tenga un po' in disparte, chiaramente faccia il minimo sindacale, visto che stiamo parlando con un sindacalista. a Grazie a tutti